Porcellino, dicono che porti tanta fortuna e fammi trovare uno sfidante degno di questa città. Tiè, ti do pure la moneta. Mi sa che ci siamo? Grazie Porcellino, a buon rendere. Ciao Alberti, che ti puoi fare oggi? Che tu c'hai grazie. Senti, c'hai il panino con il lampredotto, inzimino, lampredotto normale o se no quello bollito? No, come un inzimino. Passano i secoli, ma il lampredotto a Firenze rimarrà sempre l'istituzione per eccellenza. E prepararlo è un'arte. Piacere Chef Rubio. Ciao, grazie. Ora, fammi provare l'emozione del lampredotto. Che ti vado ad assaggiare? E che c'hai? Cioè, il lampredotto fatto alla puttanesca. Puttanesca che è? Con le olive? Olive, pomodori secchi, un po' di piccante. Com'è? Ti piace? Buonissimo. Ora, dimmi. Ma l'ampredotto che è? Il quarto stomaco della vitella? Il quarto stomaco del vitello, sì. Mi fa assaggiare quello all'enzimino? Certo. Lo fanno in tanti, ma l'altro lo fa più buono, eh. Sì? Tieni. Vedo che c'è del verde nell'enzimino. Eh, c'è la piazzola e gli spinaci. Quello meglio di tutti, secondo me, è il panino che il lampredotto, quello bollito. Quello classico? Quello classico. Manna. Con sale, pepe e salsa verde. Manna. Tutto sul panino tagli? Certo. Perché perlomeno si inumidisci il pane anche sotto, capito? Sale, pepe, un po' di salsa verde. Tutto completo, grazie. Incredibile. Incredibile. Priccante, dolce, succoso, croccante. Secondo me sei il Michelangelo del lampredotto. Ho deciso, il piatto sfira, panino con lampredotto. E lo sfilante? Orazio. Ma bella, bella, ma come tu fai a sfidarmi? Tu non mi hai fatto il lampredotto in vita tua. Ora tu puoi sfidare uno e le cent'anni qui. È impossibile. Se hai paura. Ma di te hai paura. Non sa nemmeno che parte l'elta, un po' della mucca. Non ti preoccupare che ho conoscenze. Mi glielo dire, mi glielo dire, ragazzi. Che sito? Lo sai? Viste che fa tanto simpatico? Tu ci fai da giudice, la senti? Oh, io non ho problemi. Lui, guarda. Lui, il presidente dei calcianti di calcio storico di Firenze. Sì, perfetto. Portateli dietro. Sì, perfetto.